Musica Intervento dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese di Torino questa mattina lunedì 16 aprile intorno alle 10 in via cialetta inferiore a San Maurizio Canavese. Un furgone daily mentre faceva retromarcia ha urtato una centralina del gas causandone la fuoriuscita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la cabina in attesa dell'arrivo dei tecnici del little gas per la sostituzione del tubo che si era rotto. I vigili del fuoco di San Maurizio Canavese